messero il corpo al collo quindi vieni un scudino e due bande chiude chiude da noi dove scudine due bande qui è 4v4, v1 è 4v4, v1 è 4v4, v1 davvero? poverino, lo volevi dare la mano ma io ci siete fuori safe venite dove siamo io a lei no, non date noia a quello che builda in mattoni quelli giù, quell'altro giù non a quello che builda ora in mattoni a quelli che sono giù qualcuna banda o qualcosa uno stico di vita avete banda vai, uno giù te l'avevo lasciata no, no, l'hanno riprese dai che muoiono tutti di tempesta un altro giù puoi levarti dalla mia non è salito occhio Fede li stai andando dritto dritto nel muso ci vado inziamo Fede è l'ultima mi fa un altro giù è rimasto l'ultimo no Fede non gli andate nel muso ma perché avete questo vizio ragazzi e poi dov'è andata in high ground o no è guai è guai molto tanto signori ragazzi è uguale ma non non è senza andare in tempesta dritto per dritto un bocca al nemico le stesse davvero non i vedo ho sto fuori con te vittoria reale vado io spengo va bene buona notte buona hai vinto sì ho vinto anche due volte questa vittoria reale mi è piaciuta ho usato il fusile nuovo molto bene lasciate like ciao